Videogiochi, un mondo incredibile, un mondo ricolmo di dettagli e questa classifica, questa playlist, occhio ai dettagli, serve proprio a questo, a permetterci di godere a pieni polmoni di alcuni dettagli, di alcune features, di alcuni easter egg che mai nella nostra vita di videogiocatore o nella nostra carriera o nel nostro percorso di sviluppo e gioco di quel proprio videogioco non abbiamo neanche lontanamente notato. Ebbene sì, questa avventura sta per continuare, questa avventura si arricchirà con dettagli incredibili. Vi sfido caldamente a dirmi e a scrivermi nei commenti se anche voi questi dettagli dei videogiochi che vado ad elencarvi li avete trovati e quindi vi do il benvenuto a questo revamp di questa playlist. Spero ovviamente vi possa piacere e iniziamo immediatamente con i dettagli mancati in famosissimi videogiochi. Benvenuti su Top of Gaming! Oh, ed eccolo qui il primo videogioco, si chiama Unpacking ed è essenzialmente un videogioco dove voi dovete unboxare alcuni oggetti perché vi siete appena trasferiti in una casa nuova e dovete cercare di metterli tutti non nella posizione giusta, nella posizione che più a voi fa piacere, che più a voi rilassa. È un videogioco tranquillo, rilassato, che non mette assolutissimamente ansia e anzi vi permette di gustarvelo in tutta tranquillità. Inoltre vi permette anche di pensare all'ordine perché in una casa ovviamente serve l'ordine. E il primo easter egg lo troviamo in questa stanza. Un gradino più in alto e troviamo lui l'assassino più spietato del mondo, quello che vi permette di assassinare le vostre vittime come volete. Bene, sappiate che il nostro agente preferito può fare una strage ma può anche essere un ottimo ballerino. Insomma, se i Neatman, Blood Money, rimanete abbastanza in questa stanza, beh, il nostro agente preferito inizia davvero a scatenarsi. Non a colpi di uccisione, ma a colpi di samba. Ready or Not è un titolo che ha catalizzato per molte settimane l'attenzione di tantissimi youtuber e anche ovviamente di milioni di videogiocatori. Sviluppato da un piccolo team indipendente e un simulatore e un buonissimo sparatutto con alcuni dettagli che, ragazzi, Rainbow Six e altri titoli più blasonati come Call of Duty, spostatevi. E il dettaglio realistico che ho trovato sta proprio qui. Sparate al vostro volante dell'automobile e perfino compare l'airbag. Ragazzi, non scherzo, Ready or Not ha tantissime di queste chicche e credetemi che in questa playlist ve la racconterò tutte. Ed ora passiamo a Resident Evil 4. No, quello che state vedendo, ragazzi, è il remake che uscirà nel 2023, ma lo uso per parlare appunto di ciò che è stato Resident Evil 4. Un grande videogioco nella quale tutti noi, se l'avete giocato ovviamente, ci ricordiamo di una scena molto particolare nella quale il nostro Leon ad un certo punto perde il suo iconico giubbotto in pelle. Bene, la storia in questione non ha mai neanche lontanamente detto poi che fine abbia fatto questo giubbotto. Dettaglio da poco? Eh no, per molti questo dettaglio è importante. Il punto è che una volta completato il titolo principale e voi giocate con la vostra Ada Wong, beh avrete poi la possibilità di trovare la giacca di Leon su uno zombie. Ora, non so voi, ma io spero vivamente che questo dettaglio, anche in Resident Evil 4 Remake, ci sia. Che è un bellissimo dettaglio. Ed ora vi regalo ben due dettagli su uno dei miei videogiochi preferiti e credetemi dovrei farci un video dedicato su quanti dettagli ho trovato e molti non hanno neanche lontanamente notato in Batman Arkham Knight. Bene, ma partiamo con il primo dettaglio in questione. Ed eccolo qui, il primo dettaglio mancato. Ci troviamo praticamente all'inizio del videogioco e incontriamo questa persona all'interno del bar che chiede al poliziotto di poter intervenire su una persona che sta fumando appunto all'interno del locale. La cosa bella è che se andate in obitorio, ad un certo punto non solo trovate la cameriera e che vedete là con il suo costumino rosso che appunto avete visto alla tavola calda, ma vedete anche questo signore. E tra le altre persone morte appunto durante l'incidente iniziale troverete tanti altri che appunto durante l'incidente della tavola calda non si sono salvati. Ed ora vi regalo questa scena molto iconica, secondo dettaglio è... Barbara Gordon si spara un colpo in testa. Certo, poi veniamo a sapere che in realtà era semplicemente un'allucinazione data dalla tossina del spaventapassere. Il dettaglio che forse vi è mancato è che proprio in questo preciso momento vedete la pistola là dietro e viene spostata dal Joker. Ma il Joker in realtà non esiste. In realtà è semplicemente un'allucinazione presente nella testa del nostro uomo pipistrello. e già solo in questo preciso momento avreste già potuto capire che la pistola non era vela. Quello che stavate vedendo non era assolutissimamente vero e possibile. Un piccolissimo dettaglio, ma importantissimo. Ed ora vi lascio ad un momento molto particolare. Occhio, grande occhio ai dettagli, ma soprattutto occhio agli occhi di Batman. La cosa interessante di questo momento che vi ho fatto vedere è che essenzialmente Batman scopre di come Joker gli ha fatto rivivere il momento in cui il nostro Batman ha perso il primo Robin. La cosa davvero interessante, andando a zoomare ancora di più negli occhi del nostro Bruce Wayne sono degli occhi lucidi appunto per aver rivissuto quel momento molto doloroso. Questi invece sono gli occhi del nostro uomo pipistrello penetranti e glaciari pronto a fermare il crimine. Insomma, un altro piccolo enorme dettaglio che ci faceva scoprire con molta precisione quello che stava passando il nostro Bruce Wayne in quel momento molto, molto doloroso.